Musica Ben trovati cari amici, buonasera, benvenuti a questa nuova puntata di Confagricoltura News Vado a salutare l'ospite di questa sera, è tornato a trovarci Massimo Battisti, vice direttore di Confagricoltura Ciao Massimo, buonasera Buonasera Andrea Allora parliamo di pomodori questa sera e parliamo di rosso che stavolta non è il rosso del pomodoro ma purtroppo è il rosso del bilancio Facciamo un bilancio di questa annata di sicuro non positiva per tanti motivi Innanzitutto bisogna ricordare l'importanza della cultura del pomodoro nel territorio mantovano che è la provincia all'interno della Lombardia dove si coltiva di più pomodoro Sono circa quasi 4000 ettari Hai detto bene perché comunque le produzioni sono state scarse Rispetto a quella che è stata la programmazione fatta dalle varie organizzazioni di produttori Si è raggiunto all'incirca l'85% di quello che era stato programmato Pertanto le produzioni sono state inferiori Di circa un 15% questo è dovuto al fatto che soprattutto nel periodo primaverile la stagione non è stata molto favorevole alla coltivazione Maggio freddo e piovoso Esattamente I prezzi poi non sono stati quelli che ci aspettavamo Si sono poi mediamente attestati nemmeno sugli 8 euro al quintale Questo ha fatto sì che generalmente produzione di 650 quintali all'ettaro Contro le canoniche 750-800 prezzi diciamo al di sotto di quello che ci si aspettava La produzione all'ordine vendibile per ettaro si è attestata attorno ai 200-5300 euro all'ettaro E sappiamo che i costi di produzione sono di 1000 euro all'ettaro più alti Quindi di fatto con quelle produzioni si è perso quest'anno Cosa fare per il futuro? Perché non accada questo? Bisogna che le organizzazioni di produttori programmino meglio le produzioni Bisogna programmare in anticipo e soprattutto tutte queste organizzazioni di produttori Perché ce n'è più di una devono avere un unico intento che è quello di collaborare E come dicevo prima programmare meglio le produzioni Quindi fare rete e organizzare in anticipo Questo anche per prevenire magari il discorso climatico Visto che le stagioni stanno un po' cambiando Eh questo senz'altro Va bene siamo in chiusura Ringraziamo Massimo Battisti per aver tracciato questo bilancio Per aver scattato questa fotografia sul pomodoro mantovano Ma non solo diamo appuntamento ai nostri amici a casa invece alla prossima settimana Arrivederci Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti